Dopo il video ripreso da un cittadino di Agropoli e condiviso sul social di Facebook nei giorni scorsi, che mostra lavori di movimentazione meccanica sulla spiaggia di Trentova, il consigliere di opposizione del Movimento 5 Stelle, Consolato Natalino Caccamo, ha provveduto ad inviare un'interrogazione scritta all'assessore Aldemania Eugenio Benevento e per conoscenza al Presidente del Consiglio e agli uffici della Capitaneria di Porto di Agropoli per sapere se a conoscenza dei fatti esposti, se conosca la natura dei lavori effettuati e da chi siano stati condotti, se gli stessi siano stati assentiti e con quale provvedimento, se e quale concessione demaniale sia stata rilasciata ad oggi su quel tratto costiero. Attendiamo risposta, fa sapere Caccamo e intanto ringrazio della segnalazione quei cittadini che con amore per la propria terra ogni giorno presentano attenzione a ciò che ci circonda. Su questa spiaggia ci possono essere dei nidi di tartaruga, scrive l'uomo che ha ripreso il video infuriato, rivolgendosi all'amministrazione comunale. State distruggendo un ecosistema che ha impiegato milioni di anni per regalarci questa terra. Fermate questo scempio!